Vince il fenomeno di Fabio Quartararo Questa era una chicca per la YouTube del calcio Comunque tralasciando questo discorso Vince Fabio Quartararo Mamma mia Super Fabietto Comunque ragazzi poi secondo Maverick Vignales è terzo Tutti in piedi sul divano Starei Ore Ore per applaudire il terzo classificato Ovvero Valentino Rossi Valentino Rossi arriva in terza posizione E' stata tutta la gara lì davanti Tutta la gara secondo Quindi gara mostruosa da parte di Valentino Rossi Quindi davvero 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 mostruoso Il buon vecchio lupo Il buon Vale E peccato per Pecco Bagnaia Era secondo Peccato per Pecco Davvero peccato Per Pecco Bagnaia Era davvero Era suo la seconda posizione Il podio era suo Purtroppo ha rotto il motore Quindi Ci dispiace Ci dispiace tantissimo Quarto Quarto Quarta posizione arriva un grandissimo Takaki Nakagami La prima onda Arrivare Diciamo lì nelle prime posizioni Si è arrivata quarto Quindi grandissimo Takaki Nakagami Poi Vero dicendo gli altri Un Alex Marquez che è arrivato ottavo Quindi complimenti ad Alex Anche se sono caduti Un sacco lì davanti Si sono ritrati in tanti Franco Morbidelli Si è ritirato Si è ritirato Pecco Bagnaia E' caduto Jack Miller E' caduto Petrucci Comunque Se ne sono andati Di Top Driver Quindi Cioè Buon 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 Alex Quindi Ragazzi Spettacolare E' stato spettacolare Ragazzi A me è piaciuta Stratanto Che dire Ragazzi Se il video è piaciuto Un bel like Fatemi sapere Questo commento Se schede al canale A sull'altra campagna A me è ciò che sovì Ben l'amagato